Ciao! Ciao amore! Mi aiuti? Sembrava un ingresso giusto! Ciao! Ciao! Ciao Mami! La chitarra dove la mettiamo? Vieni qua! Ciao! Sei ingrassata eh? Ah! Una parola a vederti qua! Come stai? Dai, inizio subito io. Volevo intanto dirti che sono molto emozionata visibilmente di essere qui con te. Beh, è la prima volta che siamo in televisione. Infatti, la prima volta. Nessuno ci ha mai visti insieme. Volevo approfittarne per dirti una cosa che è tanto tempo che ti voglio dire e non ho mai trovato né il contesto, né la situazione, né le parole giuste per dirtelo. E questo mi sembrava il posto migliore. Aspetto un bambino. Non so se lo sapevi. È per questo che sei ingresso. Ah, ecco. Mi sembrava strana. Come la vivi tu? No, come la vivi tu. Tu sei stupenda. Cioè, voglio dire, stai... La stai vivendo veramente bene. Sei veramente una roccia, una forza della natura. E di questo io sono veramente orgoglioso. Adesso ho un di fuori. Grazie. Bello, bello, bello. Grazie a tutti.